Servono piena verità e giustizia, sono le parole che oggi il capo dello Stato Mattarella ha voluto ribadire in occasione del quarantesimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, che ha costato la vita 85 persone. Protesta dell'Associazione delle Vittime, alcuni responsabili oggi sono pienamente liberi e spesso trattati come delle star. Pochi disagi ma molte polemiche dopo l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute e Speranza per il ripristino della normalità rispetto alla vicinanza dei passeggeri sui treni ad alta velocità, che di fatto ha annullato la deroga al distanziamento sociale di un metro contenuta nel decreto ministeriale del 14 luglio. La situazione nelle stazioni appare tranquilla, nonostante alcuni convogli siano stati soppressi. La pandemia durerà ancora a lungo, servono sforzi ulteriori al monito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo l'ennesimo aumento di contagi di coronavirus in gran parte del mondo. Negli Stati Uniti per il quinto giorno di fila ci sono stati oltre 60.000 casi. Cresce la preoccupazione in Europa, dove sembra essere tornata la seconda ondata della pandemia. Allerta soprattutto in Francia e Germania. La questione migranti al centro del dibattito politico con una situazione di emergenza nell'hotspot di Lampedusa. Il centrodestra attacca la maggioranza e Salvini polemizza con Di Maio. Le sue proposte, dice il leader della Lega, sono tardive e già previste dai decreti sicurezza. Basta applicarle anziché cancellarle. L'Inter vince a Bergamo e conquista il secondo posto in classifica a un solo punto dalla Juventus, ma è gelo tra Antonio Conte e la società dopo che l'allenatore ha tuonato contro il proprio club a fine partita. Non ha protetto me e i giocatori. Farò le mie valutazioni, lo sfogo di Conte. Oggi le ultime gare della Serie A. Occhi puntati su Genoa e Lecce che si giocano la salvezza. Una buona giornata e una buona domenica dal telegiornale della Sette. Una domenica in cui ricominciamo con le immagini di Bologna e con il ricordo, quello che ci porta a 40 anni fa, al 2 agosto del 1980, forse la strage più cruenta e devastante della storia della nostra Repubblica, ma soprattutto devastante è stato anche gestire questi 40 anni fatti sì di inchieste, ma anche di molti depistaggi di difficoltà nel ricostruire le responsabilità. Ci sono le responsabilità e le condanne degli esecutori materiali. Sono stati ricostruiti alcuni depistaggi, ma manca ancora l'ingegnere di quella strage. La mente in questa giornata dunque quello che sentirete, pur in una commemorazione in parte stravolta rispetto a quelle passate per l'emergenza Covid, sentirete risuonare a più riprese due parole, la verità e la giustezia. 40 anni e una ferita mai chiusa, quella della strage alla stazione di Bologna nell'anno del Covid. Per la prima volta la commemorazione è senza lo storico corteo. Ma alle 10.25, l'ora della bomba che uccise 85 persone, ne ferì 200 e segnò la storia di un paese intero. La commozione è più che mai viva. 2 agosto 1980, l'attentato più cruento della storia repubblicana. Il romanzo di una strage è fatta di macerie, ma anche solidarietà, indagini, ma anche depistaggi e misteri. Fino a una verità che quest'anno forse è più vicina che mai, ma ancora non è completa. Bassa segreti, ha detto la Presidente del Senato Casellati, presente oggi alla commemorazione. È tempo di aprire i fascicoli, è tempo di toglierli dai cassetti. Bologna non è più soltanto un caso giudiziario, è diventata un argomento storico e la storia non si scrive con i segreti di Stato, non si scrive con i silenzi, non si scrive con gli omissis. Squarciare il velo che ci separa dalla verità, ha scritto in un tweet il Premier Conte a Bologna. Per il Governo c'era il Vice Ministro dell'Interno Vito Crimi. Dopo 40 anni si può solo chiedere scusa. Ma le scuse non bastano. I familiari delle vittime di quella strage, la vita stravolta da quella tragedia, una vita spesa a inseguire la verità. In parte c'è una verità giudiziaria. Sono stati condannati come esecutori, materiali, gli ex NAR, nuclei armati rivoluzionari, Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, in primo grado Gilberto Cavallini. Ma manca ancora la verità sui mandanti. La Procura di Bologna da tre anni sta riavvolgendo il filo nero che dal capo della P2 Liciogelli passa attraverso i servizi segreti deviati. Poter arrivare ai mandanti sembrava quasi un'utopia. Quante volte ce lo siamo sentiti dire. Oggi è una concreta realtà. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, nuovi e importanti tasselli si sono aggiunti. C'è un'esigenza di piena verità e giustizia per il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il primo presidente che a 40 anni dalla visita di Pertini è tornato nell'atrio di quella stazione e ha visitato nello stesso giorno il museo di Ustica, sempre a Bologna, per riaffermare il dovere della verità. In due stragi avvenute a 36 giorni di distanza unite dall'attesa della verità e della giustizia. La stazione di Bologna sarà dedicata al 2 agosto 1980, il ricordo in una targa mostrata oggi durante la cerimonia. Vediamo la situazione Covid innanzitutto sul nostro territorio, quelli che sono i nostri numeri, che vanno monitorati così come è chiaro, anche in questa fase va monitorato, il distanziamento sociale va garantito, le persone vanno sorvegliate. Ecco spiegato quello che è successo nelle ultime 24 ore. Tra le poche certezze sono crollate anche quelle sul come muoversi in treno. È stato un cortocircuito poi ricostruito anche molto politico. Da una parte l'indicazione di un ministero, il MIT, che di fatto dava il via libera alle compagnie per poter occupare tutti i posti sui treni, poi il dietrofronto imposto dal Ministero della Salute per ripristinare il distanziamento con pochi disagi, ma naturalmente ancora grande confusione in un weekend peraltro di grandi spostamenti. Quello che è certo è che non ci siamo mossi in modo autonomo. Sulla questione treni arriva secca la replica dell'amministratore delegato di Italo, Gian Battista Larocca, che chiede chiarezza e norme che non creino squilibri tra i diversi mezzi di trasporto, dopo che l'ordinanza, firmata ieri dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha di fatto annullato la deroga al distanziamento sociale di un metro contenuta nel DPCM del 14 luglio. Proprio sulla base di quel provvedimento, afferma la Dici, siamo messi al lavoro per adottare le necessarie regole di sicurezza, garanzia dei nostri passeggeri e dei nostri lavoratori. Regole ormai superate dalle nuove disposizioni che ribadiscono la necessità del distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera. Trenitalia da parte sua era sicura, cercheremo di garantire a tutti il viaggio prenotato, ma comunque la compagnia potrebbe ritrovarsi nell'eventualità di ricollocare i passeggeri o di rimborsare i biglietti. Stamattina però a termini, così come alla stazione centrale di Milano, la situazione appariva tranquilla e non si sono registrati particolari disagi, anche se Italo ha cancellato già tre treni. Dopo l'allarme lanciato dal Comitato Tecnico Scientifico, che aveva definito azzardata la scelta di ripristinare i coinvogli a pieno carico, anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che aveva annunciato in una nota alcune modifiche nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza, ha precisato che il Governo non ha mai autorizzato il riempimento al 100%. Le ore che hanno preceduto l'ordinanza del Ministero della Salute avrebbero registrato un acceso contrasto tra i Ministri Roberto Speranza «Perché non mi avete consultato?» e Paola De Micheli del MIT, ma le deroghe erano previste. In mattinata poi è arrivata la smentita del portavoce del Ministro della Salute. Scelte condivise. La curva del contagio, intanto, dopo due giorni con nuovi positivi e ben oltre la quota 300, torna a calare. Ieri sono stati 295, con una diminuzione anche del numero dei decessi, 5. Nelle ultime 24 ore, le regioni con l'incremento più alto di nuovi casi sono state l'Emilia-Romagna, più 56, e la Lombardia, più 55. Ma è proprio la Lombardia, insieme alla Liguria, che per ora conferma la sua linea in materia di trasporti pubblici, si viaggia al completo e senza distanziamento. Una rotta controcorrente rispetto alle indicazioni del Ministero che solo ieri ha ribadito che in tutti i luoghi chiusi, aperti a pubblico, compresi i mezzi di trasporto, mascherina e soprattutto distanziamento, restano fondamentali. Fondamentali per l'Italia, così come per il resto del mondo, anche perché, numeri alla mano, siamo arrivati a oltre 17 milioni e mezzo di casi di contagio. La strada è ancora lunga, è l'ennesimo monito che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo capito che è una diffusione del virus che agisce in modo asimmetrico in questa fase. Ci sono paesi ancora in piena pandemia, ha una gestione incontrollabile, e altri, per esempio come la Cina, dove torna la preoccupazione o torna la tensione anche in aree della vecchia Europa, anche perché c'è una caccia ulteriore, quella agli asintomatici, che sembrano anche in questo caso in costante ascesa. La pandemia durerà a lungo, servono sforzi a lungo termine e una risposta sostenuta a livello locale e globale. A dirlo è il Comitato per l'emergenza sul Covid-19 e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Molti paesi che credevano di aver superato il peggio, ha sottolineato il direttore generale, Gabriel Jesus, ora sono alle prese con nuovi focolai. Alcuni, che erano stati meno colpiti nelle prime settimane, stanno vedendo un numero crescente di casi e morti. Gli oltre 200.000 decessi registrati ad oggi in America Latina, del resto lo confermano. Gli Stati Uniti, che secondo l'aggiornamento della Johns Hopkins University, contano oltre 4.600.000 contagie e più di 154.000 vittime, per il quinto giorno consecutivo hanno registrato oltre 61.000 nuovi casi di positività al coronavirus e 1.051 decessi. Le autorità di Melbourne, la seconda città più popolosa dell'Australia, sono state costrette a dichiarare lo stato di emergenza dopo aver registrato un'impennata nei casi di contagio. Le misure restrittive, che resteranno in vigore fino al 13 di settembre, prevedono limitazioni nella circolazione di notte e il divieto di celebrare matrimoni e funerali. Cresce la preoccupazione in Europa, dove sembra essere tornata la temuta seconda ondata della pandemia. La Germania, che nelle ultime ore ha fatto registrare circa un migliaio di contagi, ancora si interroga sulla manifestazione cui hanno partecipato migliaia di persone che sostenevano tesi che dietro la pandemia ci sia un complotto per limitare le libertà individuali. In Francia sono i numeri a preoccupare. 1.300 i casi in 24 ore, 170 nella sola città di Tolosa. 1.300 anche i casi in Romania. Chi rientra nel nostro paese deve necessariamente sottoporsi a quarantena obbligatoria. Sono in numero crescenti i contagi in Spagna, circa 1.500 sotto osservazione Madrid e Barcellona. E nel Regno Unito il premier Boris Johnson, dopo essere stato costretto a limitare gli spostamenti di oltre 4 milioni di cittadini britannici e da rinviare alcune riaperture, ha chiesto agli esperti del comitato scientifico di elaborare un piano per evitare di ricorrere ad una nuova chiusura totale. Segnali di caotto ottimismo arrivano invece dalla Russia, che già da ottobre potrebbe sottoporre l'intera popolazione alla vaccinazione gratuita, anche se ancora non sarebbero stati completati i test sugli eventuali effetti collaterali e l'efficacia del siero. Quanto meno asimmetrica senza dubbio è stata anche la gestione, lo è tuttora sotto alcuni aspetti, la gestione dell'emergenza sanitaria proprio negli Stati Uniti. Basti pensare che nel giro di poche settimane Donald Trump è passato dalla volontà di comizi in presenza e con le porte aperte, dunque con pubblico, a una convention, quella repubblicana, che sarà chiusa alla stampa. Il Covid negli Stati Uniti non tocca solo record di vittime e contagi, ma si insinua prepotentemente nella campagna elettorale per le presidenziali 2020. Tanto da far prendere al Partito Repubblicano una decisione senza precedenti nella storia recente americana. La convention di fine agosto di Charlotte in North Carolina, l'evento cioè che confermerà Donald Trump come candidato alle elezioni il 3 novembre, sarà chiusa alla stampa. Inizialmente proprio a causa delle misure restrittive imposte in città per il coronavirus, Trump aveva deciso di spostare l'appuntamento in altro luogo. Ma ora torna sui suoi passi, conferma Charlotte, ma per garantire il rispetto del distanziamento sociale lascia fuori i giornalisti, che dovranno accontentarsi di seguire le votazioni dei delegati via streaming. Sempre che le elezioni il 3 novembre si tengano davvero, il Presidente è tornato sull'argomento rituitando il post della Fondazione Heritage, che parla del serio rischio brogli del voto per corrispondenza. Voto che quest'anno, proprio per esigenze di sicurezza sanitaria, potrebbe essere molto più utilizzato che in passato, ma che secondo Trump favorisce frodi gigantesche e danneggia il Partito Repubblicano, tanto da pensare a un rinvio. Ma l'uscita del Presidente ha scatenato una marea di polemiche, perché cambiare il giorno delle elezioni è di competenza esclusiva del Congresso, e visto che la Camera è a maggioranza democratica, il Presidente ha poche speranze di rimandare il voto. E' qualora che è sempre più accerchiato, anche dai sondaggi che lo danno perdente su Biden, pensa di distrarre l'elettorato con il suo cavallo di battaglia, la guerra fredda con la Cina. Così trasforma in priorità politica il caso TikTok, minacciando di bandire dagli Stati Uniti l'applicazione gettonatissima di proprietà della cinese ByteDance. Secondo Trump sarebbe, insieme con Huawei, complice delle operazioni di spionaggio di Pechino. Un'alternativa alla chiusura sarebbe quella di rilevare il ramo statunitense della app, che raggiunge circa 100 milioni di americani insieme con i loro dati sensibili. Microsoft si era fatta avanti, ma Trump, che il fondatore del colosso informatico Bill Gates proprio non lo sopporta, si è detto fortemente contrario. A questo punto Microsoft avrebbe sospeso i negoziati. Forse potrebbero farsi avanti un paio di fondi di investimento. Certo, non guasterebbe proprio alla campagna di Trump cercare di salvare i 1.400 dipendenti americani di TikTok e il giro d'affari da mezzo miliardo di dollari generato solo negli Stati Uniti. Rimaniamo negli Stati Uniti. Vi facciamo vedere immagini davvero impressionanti di una situazione ancora difficile. Siamo a 90 chilometri a est di Los Angeles, ancora alle fiamme. Ci sono già 7.800 persone che sono state evacuate. Questo riferiscono i vigili del fuoco della contea di Riverside alla CNN. L'incendio ha iniziato venerdì, ma a partire dalla notte di sabato ha già bruciato circa 3.000 ettari e le fiamme, secondo le autorità, sono ancora fuori controllo. Nonostante l'intervento di quasi 400 pompieri è un ingente spiegamento di mezzi di supporto aereo. Torniamo in Italia. L'altra partita che gioca il governo con tempi stretti è quella naturalmente economica per dare sostegno alla domanda. Misure che devono arrivare in tempi brevi. Il nuovo decreto, quello d'agosto, con una serie di settori su cui intervenire indicati direttamente dal Ministro dell'Economia servono risposte immediate, ma poi anche un piano a medio raggio almeno e quello è utile e anzi indispensabile per accedere poi anche agli aiuti europei. Anche in questo caso le scadenze sono imminenti. Si apre domani una settimana decisiva per la nostra economia. Bisogna definire il piano per investire ai recovery fund. Entro martedì i ministri dovranno indicare le proprie proposte e si deve affinare e sfinare il decreto di agosto, ennesima manovra del governo per sostenere imprese e famiglie post-lockdown che deve fare i conti con la profonda crisi in corso e l'incertezza del futuro, una possibile seconda ondata. A disposizione ci sono i 25 miliardi dello scostamento di bilancio e ci sono gli aiuti europei, quanti e quali ancora da definire, ma soprattutto ci sono nodi da sciogliere all'interno della maggioranza. Primo fra tutti quello che riguarda il lavoro, il capitolo più corposo e anche più complicato del decreto, con le imprese già di traverso per i criteri per poter accedere agli aiuti. Cassa integrazione e blocco dei licenziamenti. Nella bozza del decreto è previsto che la Cassa integrazione Covid resti gratuita solo per quelle aziende che hanno subito una perdita di fatturato del 20% rispetto all'anno precedente. Un paletto messo per evitare che i soliti furbi approfittino degli aiuti ma che rischia di lasciare fuori aziende che hanno continuato a lavorare riconvertendo la loro produzione per l'emergenza Covid o hanno fatto fronte a ordinativi precedenti ma che ora si trovano comunque in difficoltà. È prevista poi la possibilità di rinnovare ancora i contratti senza indicare la causale in deroga quindi al decreto dignità e per le aziende che non hanno utilizzato la CIG Covid ci sarà un premio di decontribuzione per i lavoratori rientrati in attività fino a un massimo di quattro mesi. Prorogato fino al 31 dicembre il blocco dei licenziamenti, altro tema che divide la maggioranza perché potrebbe rivelarsi un boomerang. Un pacchetto, quello che riguarda il lavoro, che dovrebbe valere 10 miliardi, 6 arriveranno da Bruxelles. Innalzate le barriere degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha dato il via libera al budget destinato a incentivi alla ricapitalizzazione per le piccole e medie imprese colpite dalla pandemia. Ma la manovra ad agosto è costosa. Bisogna aiutare gli enti locali, comuni e regioni provati da mancati incassi per sospensione e proroga di pagamenti. A loro dovrebbero andare circa 5 miliardi. Peraltro ci sarà una nuova scadenza per i versamenti di tasse e contributi sospesi, così come posticipata dopo il 31 agosto anche la riscossione delle cartelle esattoriali. Poi c'è da sostenere il settore dell'automotive, uno dei più colpiti, con la pioggia di bonus e incentivi in arrivo. Questa mattina nel corso dell'Angelus da parte di Papa Francesco è arrivato un richiamo, a un impegno concreto proprio da parte della politica per rilanciare il lavoro. Ha detto Papa Francesco, auguro che in questo periodo molti possano vivere riposo e contatto con la natura per ricaricare anche la dimensione spirituale. Nello stesso tempo ha aggiunto, auspico, che con l'impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici si rilanci il lavoro, senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti, ha detto Papa Francesco. Il lavoro sarà un problema della post-pandemia e ci vuole tanta solidarietà e tanta creatività per risolvere questo problema. E poi c'è un'altra emergenza che segna danni, anche in particolare i mesi più caldi dell'estate, quella della gestione dei flussi migratori. In questo caso però si interseca anche con l'emergenza Covid e con i decreti sicurezza. Il dossier migranti catalizza l'attenzione dell'esecutivo e nelle ore calde degli sbarchi e dei decreti sicurezza tornati nell'agenda per l'intesa di maggioranza sulle modifiche diventa il terreno di scontro preferito dall'opposizione. Di fronte a Di Maio, che cerca la linea dura e parla di governo compatto per fronteggiare gli arrivi, smettendo frizioni con il Premier, Salvini attacca. Le proposte di Di Maio sono tardive, già previste dai decreti sicurezza. Basta applicarli anziché cancellarli dai rimpatri veloci agli interventi contro le imbarcazioni dei trafficanti. Anche l'uso dell'esercito, aggiunge Salvini, per sigillare i centri di accoglienza. Non va solo proposto come fa il Ministro Guerini, va fatto. Tanto nessun giudice indagherà esponenti di PD o 5 Stelle per sequestro di persona. Il leader Leghissa intende giocare da protagonista su questo terreno in vista della campagna elettorale per regionali e amministrative di settembre. E mette il dito nella piaga 5 Stelle, movimento già in tensione per l'intesa sulle modifiche ai decreti sicurezza considerate una marcia indietro. Passaggio che ieri ha incassato anche le critiche di Di Battista. Ma il centrodestra si ricompatta e non risparmia a fondi. Da Forza Italia Gasparri punta il dito su Di Maio e Ipocrita parla contro gli sbarchi ma il suo esecutivo ha attuato una politica pro-immigrazione dalla sanatoria della Bellanova allo smantellamento dei decreti sicurezza. Mentre la Meloni attacca frontalmente i DEM. L'Italia al collasso tra aziende italiane in ginocchio, continui sbarchi e i migrati che fuggono dalla quarantena. E a cosa pensa il PD? Allo IUS soli. Ma sul tavolo oggi il leader Leghissa mette un'altra affisce e punta il dito dritto sul Palazzo Chigi. Dopo l'ok al senato di giovedì al processo sulla nave Open Arms, Salvini riapre il dossier fotocopia sulla Gregoretti spiegando che da due mesi il suo avvocato chiede al governo documenti che non arrivano. Ritardo insinua Salvini che potrebbe far pensare che il governo voglia nascondere qualcosa. Domani per Genova sarà una giornata importante a lungo attesa, una giornata comunque delicata e complessa per quel che ricorda e poi per quel che sarà per la città. Il nuovo ponte, l'inaugurazione, l'apertura al traffico. Oggi con il nostro inviato Paolo Colombo ci siamo concessi un volo, nel vero senso della parola, sopra il ponte. Ci siamo tra poco più di 24 ore. Il ponte Genova-San Giorgio sarà ufficialmente inaugurato. La zona è off-limits per tutta la stampa. L'unico modo per vedere quello che succede oggi sui mille metri del nuovo viadotto è quello di osservarlo dal cielo. Lo abbiamo fatto ospitati a bordo dell'elicottero Volpe 101 della Guardia di Finanza di Genova. L'equipaggio è lo stesso che si era alzato in volo sfidando il maltempo pochi minuti dopo il crollo del 14 agosto di due anni fa. Era stato il capitano Angelucci a filmare dall'alto il Morandi spezzato in due. Ci racconta che è impossibile per lui dimenticare quei momenti in volo sotto il diluvio. Oggi sotto è tutto un viavai di uomini e mezzi e anche giornata di verifiche di agibilità del ponte da parte dei tecnici di Anas. Verifiche propedeutiche all'apertura del traffico che dovrebbe avvenire intorno alle 5 di mattina di mercoledì prossimo. Pasteranno infatti 24 ore per smontare tutti gli allestimenti preparati per l'inaugurazione. Una cerimonia sobria come più volte. Aveva ricordato il presidente Mattarella che arriverà a Genova domani pomeriggio per incontrare in prefettura i parenti delle vittime prima di attraversare con l'auto presidenziale il nuovo viadotto. Proprio i parenti delle vittime non parteciperanno all'inaugurazione. Non c'è niente da festeggiare. Non bisogna dimenticare che nel crollo del vecchio Morandi sono morte 43 persone. Ripete come un mantra Egle Possetti, presidente del comitato, che ricorda anche che la gestione del nuovo ponte non sarebbe dovuta passare ad Aspi. Domani sul viadotto non ci saranno alcuni dei vigili del fuoco dei sindacati di base che avevano lavorato giorni sulle macerie del Morandi con la speranza di trovare superstiti. Assenti anche gli sfollati di Via Porro. La strada con le case che si trovavano sotto il Morandi. Sopra il nuovo viadotto progettato a Terenzo Piano sull'asfalto spiccano le bandiere di San Giorgio. In quella zona verranno sistemati gli ospiti, 500 persone in tutto, rispettando le norme anti-Covid. Se la parte di careggiata sarà gestita da Aspi da mercoledì mattina, tutta la parte inferiore del ponte sarà gestita ancora per un po' di tempo dal consorzio per Genova. Le previsioni meteo preannunciano che dovrebbe essere giornata di temporali anche domani, come nel giorno della tragedia. Buona domenica di Sport, segnata da un nuovo Gran Premio di Formula 1. A Silverson ancora tutti a caccia delle Mercedes e poi c'è il campionato di calcio. Giornata è 90 minuti di fuoco per Genoa e Lecce. Una delle due dovrà andare in Serie B. E per quel che riguarda l'Inter c'è il secondo posto, ma non certo, la serenità di Antonio Conte. 82 punti, gli stessi conquistati da Mourinho nella stagione dello storico triplete, appena uno in meno rispetto al bottino della Juventus campione per la nona volta di fila. 12 mesi fa erano stati addirittura 21. L'Inter chiude al secondo posto e torna dopo nove anni sul podio del campionato, ma la vittoria di Bergamo contro un'Atalanta imbattuta dal 20 gennaio viene in parte oscurata dal duro sfogo di Conte. A fine gara il tecnico spara a zero sulla società. Lasciando qualche dubbio sul suo futuro nerazzurro. Ho visto attaccare l'Inter in maniera brutta. Attacchi gratuiti per i calciatori, attacchi gratuiti per me. Questo non mi è piaciuto anche perché ho visto poca protezione da parte del club da questo punto di vista. Nonostante lo scivolone casalingo, Gasperini conserva comunque la terza piazza davanti alla Lazio sconfitta dal Napoli. Al San Paolo fa festa solo immobile. Già capocannoniere e scarpa d'oro, l'attaccante bianco celeste realizza il gol numero 36 che gli permette di eguagliare il record di Higuain. Tensione in campo e rissa sfiorata tra Gattuso e Simone Inzaghi con l'allenatore dei Partenopei preoccupato per l'infortunio di Insigne a rischio per la gara di Champions con il Barcellona. E a proposito di Coppe, altro campanello d'allarme per la Juventus. Prima di alzare al cielo la Coppa dello Scudetto, i bianconeri, al netto delle attenuanti, hanno subito il terzo KO in quattro partite, facendosi rimontare stavolta dalla Roma che allo Stadium finora aveva sempre perso. In vista del Lione, Sarri, 43 reti al passivo, deve lavorare su gioco e condizione mentre Fonseca, ritrovato il vero zaniolo anche per l'Europa League, conferma i progressi post-lockdown. Meglio dei giallorossi hanno fatto solo l'Atalanta e il Milan del confermato Pioli. Unici imbattuti dopo la ripartenza, i rossoneri con Ibrahimović in doppia cifra a 38 anni e 302 giorni, nessuno come lo svedese in Serie A, hanno conquistato 30 punti in 12 gare, battendo pure il Cagliari di Zenga, esonerato in diretta TV. E adesso l'ultimo verdetto del campionato. Stasera una tra Genoa e Lecce scivolerà in B. Staremo a vedere pubblicità e gli aggiornamenti tra poco. Di nuovo insieme con il telegiornale, non ci sono aggiornamenti da darvi, vi ricordo invece come sempre l'informazione che torna stasera alle 20. Una buona domenica a tutti voi, se volete ci vediamo domani alle 13.30. Grazie, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.